Ingannata, torturata e stuprata, è riuscita a ribellarsi e a sfidare i due magnaccia ungheresi rivolgendosi alla polizia e a denunciarli. Ora la ventenne anch'essa ungherese è stata affidata a una comunità protetta. Grazie a lei la squadra mobile di Venezia è riuscita ad infliggere un altro duro colpo al mercato della prostituzione nel veneziano. Kismarton di 34 anni e Balogbella di 27 anni l'hanno costretta a vivere un inferno, portandola a Vienna e costringendola a vendersi, fino a quando lei, stanca, ha chiesto di essere riportata nel suo paese. Con l'inganno è stata invece portata a Mestre lungo il terraglio, doveva guadagnare 400 euro al giorno e invece non ce l'ha fatta e la prima sera le hanno spento mozziconi di sigaretta sui polsi. La seconda è stata bagnata e costretta a trascorrere la notte nel terrazzino dell'albergo dove alloggiava e poi è stata stuprata. Quando ha visto una volante della polizia lunedì sera ha chiesto aiuto e messo fino al suo girono infernale. Abbiamo identificato anche un terzo indagato ungherese, colui che ha avuto il ruolo e il compito di trasportatore, individuando anche ormai una rotta consolidata per quanto riguarda il mercato prostitutivo proveniente dall'Ungheria. C'è ragazze che vengono movimentate dall'Ungheria prima in Austria e poi dall'Austria delocalizzate e portate anche qui in Veneto come nel caso di questa ultima ragazza denunciante.